non morirà mai perché resterà sempre viva nei cuori di tutti i milioni di persone che l'hanno amata e che continueranno ad amarla, è stata una pietra miliare, è stata una persona che ha creato artisticamente dei momenti veramente indimenticabili nel resto d'Italia ma direi, sottolineerei, nel resto del mondo, ricordo molto bene quando Gianni Boncompagni mi chiamò, erano i primi momenti importanti di Raffaella, conducevo una canzonissima, io in quegli anni lavoravo moltissimo in Spagna, mi dicevo, Albano chi è il tuo impresario sembravo di chiamarmi, cosa che fece con insomma gioia, venne Raffaella e conquistò in pochissimo tempo tutto il mercato spagnolo, si riversò sul mercato sudamericano con un successo pazzesco, la rubia come la chiamavano, la bionda.